Ciao, siamo DJ Jed e Vladi e oggi faremo un'auto intervista. Io farò le domande e noi due risponderemo, o meglio DJ Jed e Vladi. Allora, Jed, parlatemi del vostro duo. Oltre che essere fratelli, avete anche fatto dei pezzi insieme? Certo, abbiamo fatto pezzi insieme. Abbiamo coprodotto l'album nuovo di Articolo 31, ma non solo. Abbiamo un progetto nel cassetto che sicuramente entro fine anno uscirà. Un album dove ci siamo anche divertiti tra fratelli. Sì, tra l'altro dentro l'album c'è dentro Caterinciarelli, Cile, Albano, La Young, c'è un po' di tutto. Un album molto divertente. Ah, c'è anche DJ Jed e non andare troppi sbattimenti. E non andare troppi sbattimenti. Senti, ti faccio un'altra domanda. Cosa suonerete tu e Vladi a Locarno, alla Notte Bianca? Ma dobbiamo per forza svelarlo? Ma faremo un po' del nostro repertorio, un po' di pezzi di Articolo 31 dove faremo un sacco di... Fondamentalmente ci divertiremo con le discussioni, ci divertiremo un sacco. Senti, ma perché la gente dovrà venire alla Notte Bianca di Locarno? Perché siamo belli come il sole, amici. DJ Jed, che rapporto avete con Piccino? Beh, sempre avuto un buon rapporto. In passato con Articolo 31 avevamo suonato ed è bello ridornarci. Ma mi dice, venite a farci un giro? Oh, io andrei il cioccolato sbisciolo faccio un sacco. Anche gli orologi. Ma ci avete mai suonato? Io personalmente sì, credo di sì. Io sì, ma anche io l'ho appena detto. Anche l'ho appena detto. Magari il genio degli articoli, anche non solo. L'ho appena detto. Esatto, lui dice sempre tutto. L'ho appena detto. Senti, ma avete in previsione pezzi nuovi come duo, io e te? L'abbiamo anche appena detto. Eh, ma ridiciamolo. Se abbiamo un album... Abbiamo un album che prende la luce entro fine anno. E si chiama album. Quando potremo vedere gli articoli del tuo reticino? Spero quanto prima, che dici? Abbiate fede. Abbiate fedez. No, fedez. Ciao amici!